Sono Pierpaolo, vengo da Roma, mi occupo di investimenti immobiliari da un paio d'anni circa con varie esperienze a alta e in alti e con grandi aspettative. Sono venuto in questo corso dopo un contatto vario su Facebook, i vari social, i vari canali, aver letto il libro di Antonio che è molto interessante, ve lo consiglio, con tante aspettative. Sapevo che fosse un corso introduttivo, ma in realtà si è trattato di vari approfondimenti, tanti spunti, tante cose interessanti e tanti ragazzi come me, ragazzi e ragazze, hanno voglia di approfondire e di portare avanti questa professione o questo affiancamento come attività principale. Quindi lo consiglio a tutti perché consente di partire dall'inizio e arrivare a un buon livello per poi proseguire con la formazione sia con Antonio che per qualsiasi altra esigenza. Quindi lo consiglio, sono sicuramente due giorni ben investiti e sicuramente investiti in termini temporali e economici molto buono. Complimenti a tutti.